È il momento di biraghi, inutile girarci attorno. L'esterno sinistro, che scala anche le gerarchie della nazionale, tanto piace a Roberto Mancini, è stato il primo a metterci la faccia. La fascia di Astori non si tocca, siamo disposti a pagare eventuali multe della Lega. Da lì è deflagrato il caso, con sollevazione popolare bipartisan e tante prese di posizione tutte solidali, non è mancata neppure una petizione online. Oggi, persino l'autorevole quotidiano tedesco Bilda, ha dedicato una pagina all'argomento, la follia dei capitani in Italia, il titolo. Come il calcio italiano non avesse altre preoccupazioni, è invece la chiosa finale del quotidiano che dice benissimo come ci vedono all'estero. In attesa di decisioni, possibilmente improntate al buonsenso della Lega, resta la grande crescita, non solo tecnica, dell'esterno sinistro, plasmato da Pioli, ma che ha stregato anche Roberto Mancini. Sto pensando a godermi il momento, non posso pensare alle rivincite, non ho rivincite con nessuno. Lavoro tutti i giorni, cerco di fare il mio meglio, sia alla Fiorentina, sia ovviamente anche qua in nazionale, poi quello che viene, viene, ma il mio obiettivo è lavorare. Nessuno ha rivincita, ma quanto ti senti migliorato l'anno scorso, quando sei arrivato, un po' di scetticismo c'era, vieni dal pescare, eccetera. Adesso quando tocchi la palla lo stadio ha trasformato la sua sensazione, magari fa U. Sono contento, ormai un anno è qualcosa che sono a Firenze e più o meno ho capito come come la Fiorentina e i tifosi della Fiorentina e quindi io ho continuato a lavorare dall'inizio cercando di dimostrare qual era il mio valore.